Shang-Chi è la leggenda dei Dieci Anelli, è un cinecomic... o un cinemanga? Al mio pubblico non ne ho mai fatto mistero, sin da quando è uscito il primo teaser, fino a quando è stato pubblicato il trailer finale, a me Shang-Chi non ha mai convinto principalmente per due motivi. Il primo è che il film sembra non voler essere né carne né pesce, nel senso prima sembra un wuxia e all'improvviso sfoggia arti marziali di discipline generiche, delle volte neanche cinesi. Il secondo luogo ci mostra dei fantastici paesaggi orientaleggianti, esotici, con un sacco di folklore da un punto di vista di fauna, flore e quant'altro ancora, e immediatamente dopo ci riporta in un contesto urbano, occidentale, e quindi faccio un attimino fatica a capire che cosa voglio effettivamente raccontarci. Ultimo, ma assolutamente non meno importante, il protagonista, Simu Liu, non mi arriva. Non fraintendetemi, ha già dimostrato di essere un grandissimo attore in altre sedi, il problema è che Shang-Chi è un personaggio poco loquace e soprattutto poco caratteristico, motivo per cui il suo carisma non è mai pervenuto, e avere un protagonista invisibile, la cui scena viene rapita immediatamente dall'antagonista o dalla comprimaria, beh, è un grave, gravissimo problema per i Marvel Studios. Ecco perché in questa recensione, che nella sua prima parte vi assicuro sarà totalmente spoiler free, voglio partire proprio dai miei dubbi, dalle mie perplessità e capire quali di questi sono stati sfatati a fine visione e quali invece purtroppo sono stati confermati. Guardando il teaser, guardando il trailer, guardando il G-Spot, in molti ci siamo chiesti, ma questo film di preciso a chi sta parlando? Eventualmente a un pubblico di neofiti? A chi magari già ama e apprezza la formula consolidata di Marvel Studios, ma dopo dieci anni può legittimamente desiderare che vengano aggiunti degli ingredienti nuovi alla formula? A un pubblico asiatico, tenendo conto che la Cina, nell'anno della pandemia, è diventato il primo box office al mondo, superando per la primissima volta nella storia da quando teniamo conto dei dati gli Stati Uniti d'America? Oppure a un pubblico di asio-americani o comunque gli asiatici occidentali, che ormai di seconda o terza generazione hanno abbracciato la cultura occidentale a discapito della cultura tradizionale del paese d'appartenenza? Insomma, diciamo che la scelta era piuttosto ampia. Ecco perché è importante segnalare che il primo atto di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli conferma quale sia il suo target. Gli asio-americani e più in generale gli asiatici di secondo o di terza generazione trapiantati in occidente. Si tratta di giovani che lottano quotidianamente con genitori e nonni molto più attaccati di loro alle tradizioni, mentre loro si sentono più che altro cittadini del mondo. A questo proposito vorrei fare applauso al film che non condanna la tradizione o la modernità, ma anzi si colloca come perfetto anello di congiunzione tra passato, presente e futuro. Era davvero necessario utilizzare come metafora per questo esempio proprio gli anelli. E dai, Rob! Però è proprio per questo che è un peccato che la parte del film ambientata a San Francisco risulti l'anello debole della pellicola. Anello! Di nuovo! Sul serio! E dai! Perché tolto l'azione, sempre ultimamente coreografata e spettacolare da vedere, il tutto infatti risulta talmente frenetico da impedire ai personaggi di metabolizzare ciò che stanno vivendo, e questo rende il tutto profondamente realistico. Però le cose iniziano a farsi molto interessanti quando nel secondo atto ci viene introdotto il mandarino. Namite dei flashback che verranno spezzati e inseriti lungo tutta la pellicola, questo potrebbe infastidire qualcuno, ma per quanto mi riguarda preferisco questo tipo di approccio a un racconto di origini nel primo atto prolisso e volta a spezzare il ritmo, abbiamo modo di conoscere tutti i personaggi e la mitologia che ruota attorno ai dieci anelli, e anche di farci un'idea piuttosto specifica del mandarino, che ripeto, è molto affascinante, carismatico e decisamente un villain molto differente rispetto al cattivo in senso stretto che siamo abituati a vedere nei film Marvel, molto meno macchiettistico, quasi una persona tutto tondo. Lo Shu Wenwu interpretato da Tony Chu Wei Leung risulta essere un personaggio tanto saggio quanto consumato dalla vita, al punto da venire ferito solo quando rinuncia alla sua condizione di immortale per abbracciare il lato umano. Questa cosa rende molto difficile al pubblico odiarlo perché evidenzia un grande, grandissimo problema che io stesso avevo rinvenuto per primo. Il mandarino, Katie, Xia Ling, Jing Nian e Trevor. Ecco, vi ho appena fatto il nome di 5 personaggi che nel film vi risulteranno molto più carismatici del protagonista. Shang-Chi, non pervenuto. Ecco perché a discapito della tecnica e le capacità mostrate nelle arti marziali e del cine, energia interiore che manifesta durante i combattimenti, il più grande potere di Shang-Chi in questo film è la capacità di adattamento. Sta vicino un personaggio che scherza? Diventa simpatico. Sta vicino un personaggio silenzioso? Si ammutolisce. Si passa l'azione? Svoggia subito i suoi pugni. Non fraintendetemi, è palese che Shang-Chi sia un buono, è palese che sia l'eroe di questa storia, ma allo stesso tempo non palesa mai insicurezza, rabbia, rancore, indecisione, ambizione. Sembra un personaggio molto neutro in cui, come nei videogiochi, i player possono medesimarsi in quanto non si schiera da una parte o dall'altra, ma quello che funziona in un media, non è detto che funziona in un altro, e purtroppo in un film come questo avere un protagonista che risulti un avatar, beh, non va bene. Ma adesso si passa al piatto forte, il terzo atto. Che ci crediate o meno, la battaglia finale abbandona il fronte comic e abbraccia tutto spiano manga e anime. Quindi dimenticatevi le classiche risse ai combattimenti a Erinstein e Marvel, oppure quelle acrobazie tipiche del cinema bouchard, perché qui tra regia, tecniche, effetti luminosi, linee cinetiche, combattimenti... tutto ricorda i battle shonen a cui siamo abituati. E poi ci sono pure i kaiju! E questo, devo essere sincero, non solo mi ha stupito positivamente. Mi ha anche incoraggiato sulla direzione che Hollywood potrebbe prendere in futuro, in relazione ai cinemanga, perché credo proprio che l'azione vista in Shang-Chi, che è qualcosa di completamente nuovo per Hollywood, beh, farà scuola anche ai diretti concorrenti. Ovvio, si tratta di un tipo di spettacolo nuovo a cui il pubblico generalista non è abituato, ma laddove dovesse prendere piede, beh, preparatevi al fatto che possa dettare nuovi standard. In conclusione, a differenza di Black Widow, che parte in pompa magna e poi va a perdersi, Shang-Chi è un film che ingrana molto lentamente, senza prendere una decisione specifica, forse perché intende accontentare tutti, non riuscendo ad accontentare nessuno. Ma dopo aver superato quel timore reverenziale, le cose cambiano drasticamente. Quello che ne esce è un buon racconto di origini, capace di omaggiare tutta la cultura pop-asiatica, con una CGI quasi sempre convincente, una colonna sonora in grado di svincolarsi tra Oriente ed Occidente, e soprattutto un inno all'inclusione, molto più credibile, realistico e meno strumentale, di quanto avuto con Black Panther e il Black Lives Matter. La vera domanda è, saprà un film così diverso, in un periodo storico così sensibilmente complesso, riuscire a far breccia nel cuore di un pubblico molto più abituato a un altro tipo di cinema e di intrattenimento? Beh, io spero proprio di sì. La parte senza spoiler finisce qui, io vi ringrazio di cuore per avermi seguito, se il video vi è piaciuto vi invito, qualora non l'abbiate ancora fatto, a iscrivervi al canale, a lasciare un like, a commentare, e perché no, a venirmi a trovare anche su Twitch il canale qui sotto, sapendo che io vado in onda bene o male tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera. Per tutti gli altri pronti a un piccolo momento spoiler, si parte fra 3, 2, 1... Ci sono due scene post-credits, e una in particolar modo è parecchio importante, perché porta i personaggi di Shang-Chi e Katie a interagire con gli Avengers. Wong infatti si apre un portale e li porta nella biblioteca del Sancta Sanctorum, e tramite delle proiezioni in ologramma comunicano insieme al Bruce Banner di Mark Ruffalo, che in questo momento ha ancora un braccio infortunato dopo gli eventi di Avengers Endgame, è una Carol Danvers che sembra più solare e spigliata e con di nuovo dei capelli lunghi. Quello che la scena ci rivela è che quando Shang-Chi ha attivato gli anelli per la prima volta, un segnale è stato captato, non si sa da dove proviene, chi lo ha lanciato, e se è un segnale di aiuto o magari l'arrivo di una nuova minaccia, ma sono convinto che rimanendo in campana lo scopriremo presto. E a proposito di scoprire, esattamente come ci è stato mostrato nel trailer, Abominia Wong sembra che siano diventati pappe ciccia come sparring partner, ma a svelarci quando il bestione interpretato da Tim Roth, che ha dato tanto filo da torcere al golia verde nell'incredibile Hulk, si è diventato buono? Che cos'è che è successo negli ultimi dieci anni? Boh. E con questa mia considerazione in piena verve finisce anche il commento spoiler, di sicuro nei prossimi giorni ne riparleremo in live. Vi saluto. Ah, un'ultimissima cosa, in relazione al colpo finale lanciato da Shang-Chi, Acquafina ha citato la kamehameha di Dragon Ball, se non è un cinemanga questo.